Pasqua 2024 è alle porte. Quali sono le mete più ambite quest'anno? C'è una città meravigliosa presa da assalto da italiani e stranieri. Benvenuti su Spunti di Viaggio, il canale YouTube che vuole darti suggerimenti utili per la tua prossima esperienza in giro per l'Italia e nel mondo. Iscriviti al canale per non perderti i nostri prossimi spunti di viaggio. Stiamo per entrare nel vivo di una Pasqua all'insegna dei viaggi e delle fughe rapide. E sembra proprio che gli italiani non vedano l'ora di prendere la strada per una meritata pausa. I dati raccolti dal potente motore di ricerca di voli e hotel, www.jetcost.it, non lasciano dubbi. Le prenotazioni sono in crescita esponenziale. Le ricerche di voli sono aumentate del 13%, mentre quelle di alberghi hanno registrato un incremento del 16% rispetto alla Pasqua del 2023. Quest'anno, dunque, segna un vero e proprio record di interesse per le vacanze. Napoli spicca tra le mete più ambite, sia per i turisti italiani che per gli stranieri in vista della Pasqua 2024. Il clima primaverile che avvolge il capoluogo campano, unito alla sua ricchezza culturale, paesaggistica e tradizionale, insieme alla straordinaria offerta enogastronomica e di ospitalità, ha reso l'Italia la seconda meta più ricercata su JetCost per queste festività, subito dopo la Spagna e prima del Portogallo. Analizzando le ricerche effettuate su jetcost.it, emerge chiaramente che Napoli è stata la scelta preferita da molti viaggiatori europei durante la Pasqua 2024. È diventata la terza città più richiesta dagli olandesi, la quarta dai tedeschi e dai britannici, e la quinta dai francesi e dagli spagnoli. Ma non sono solo gli stranieri a riversarsi nelle sue strade. Anche per gli italiani, Napoli è la quinta città più ambita al mondo per trascorrere queste giornate di riposo e svago. Le capitali e le principali città europee si confermano come le mete più desiderate, con Parigi in testa seguita da Amsterdam, Barcellona, Londra, Praga, Madrid, Lisbona, Valencia, Siviglia, Budapest, Vienna, Bucharest, Tenerife e Berlino. Ma l'Italia non è da meno. Catania, Milano, Roma, Palermo, Torino, Firenze e Bari sono tutte mete molto ricercate. Per chi invece preferisce spingersi oltre, New York si posiziona al dodicesimo posto tra le destinazioni più gettonate. Ignazio Ciarmoli, direttore marketing di JetCost, commenta. Quest'anno prevediamo numeri da record per le ricerche di hotel e voli. È entusiasmante vedere che l'interesse per Napoli è così forte e costante, grazie alla sua offerta culturale, gastronomica e al suo fascino unici. Non c'è da stupirsi che Napoli continui ad essere una delle scelte preferite per la Pasqua 2024, sia dagli italiani che dagli stranieri. Secondo te, a cosa è dovuto il successo della città partenopea? Il successo della serie TV Mare Fuori può aver influito? Raccontacelo nei commenti. Grazie per aver visto il video, a presto!